Nelle favole era Cappuccetto Rosso ad attraversare il bosco per raggiungere la nonna, stavolta invece sono state tre nonnine ad attraversare la selva, ma per un pelo l'escursione non è finita in tragedia. Brutta disavventura, per fortuna lieto fine per tre escursioniste ultraottantenni che si sono perse nel bosco, per soccorrerle è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigi del Fuoco. E' accaduto tutto intorno alle 13 e 15 durante un'escursione nei boschi di Vallombrosa nei pressi del sentiero 12 nel territorio comunale di Reggello. Le tre donne sono rimaste bloccate in una zona particolarmente impervia, tanto da non riuscire più a raggiungere la strada. Sono dovuti intervenire i Vigi del Fuoco del distaccamento di Bibbiena insieme ai colleghi di Arezzo del reparto Volo con l'elicottero Drago. Quest'ultimi, una volta individuate le ultraottantenni, si sono calati con il verricello a terra. Dopo aver controllato che nessuna fosse ferita o in preda a Malori, le hanno essate a bordo dell'elicottero e accompagnate dai propri familiari. Per fortuna non è stato necessario l'intervento del personale sanitario.